E lei quanti anni ha? Io, c'è di uno. 102, 102 compiuti. Devo compire. No, dei compiuti, perché sei del 1915. Qui è abitonto? Sono dagli anni 60. Dagli anni 60, non si ricordava. Ma i monasteri sono entrati i 40. Negli anni 60, quando c'è stata l'alluvione di Ferenze, e qui ci hanno portati diversi libri che sono stati lavati in questo laboratorio. Madre Letizia era la direttrice del laboratorio. Lei aveva la responsabilità di questo lavoro. Cosa si ricorda di quei libri? Che erano pieni di fango? Oh, assai. Ci sono un bel po' per il lavaggio. Questi libri in bergamento così grandi. Sì, in bergamento, libri del 600, del 700. Madre Letizia, e quando sei andata a Roma con il papà per motivi di salute? Proprio durante il viaggio, due volte, si fermò il treno. Perché, per il sgassimo, magari proprio la stazione, dove dovevamo noi andare. La stazione c'è entrata e il rione San Lorenzo. Il 19 luglio del 43. Ma il segreto per vivere fino a 102 anni, qual è? Il signore. I misteri. Sono i misteri della volontà di Dio. Sono i misteri della volontà di Dio. Perché quando avevo 41 anni, mi perai che mi torse un rene, quasi mi avevano fatto i funerali. E quanti anni ti dettero di vita? Ah, dieci anni. Comunque, io ne puoi vivere dieci anni. Quante volte sono passati dieci anni?